La dotazione è uguale al periodo precedente, nel senso che per quanto riguarda prodotti non ci sono stati prodotti in aumento, anche in percento delle festività, quindi la nostra azienda continua a mantenere sempre la solita linea, ovvero mantenere i prezzi stabili. Ci sono difficoltà nel reperire la merce oppure è normale? No, no, la merce arriva puntualmente, non ci sono difficoltà, nella fattispecie ci sono alcuni articoli come magari farina, lievito e quant'altro, visto che ormai le persone si accingono a fare pizza e quant'altro a casa, automaticamente diciamo che l'offerta è aumentata rispetto al quantitativo normale nella situazione tradizionale. Ci sono dei casi particolari, cioè si registrano casi di necessità? Sì, c'è stato qualche caso di necessità, l'azienda in alcuni casi ha offerto anche un carrello solidare e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Sono pochi casi o vi sono molti casi? C'è stato qualche caso in più, ovviamente non ci possiamo allargare a tutte le famiglie, però ai più bisognosi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. E allora siamo qui nel reparto macelleria, come va quest'anno, qual è il tipo di merce che si compra? Tutti i tipi di merce sono. Rispetto agli altri anni? Uguale. È aumentata la richiesta o no? No, sempre uguale. Prezzi? Prezzi uguali sono come tutto, non è cambiato nulla. Grazie. 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 Grazie.